A lungo vorrei dire la presentazione, grazie molto per lei, per questa direzione del Signore e del Signore, alla quinta edizione del Signore, proprio in rivoluzione a questo invito, nel buon posto del Signore, siamo qui a ricordare un anno, dall'ultima edizione, anche i progetti che sono stati di rivoluzione alla provincia di Napoli, e agendo soprattutto con due dettagli, che è quello della sensibilizzazione, naturalmente della connessività, e quello anche degli interventi diretti e non estimenti diretti. Sotto il primo profilo, la provincia di Napoli ha allenato a parte di sindaci, quale struttura di riporto, ha convocato tutti i primi progetti della provincia di Napoli, in una sessione alla quale hanno partecipato numerosi rappresentanti di amministrazioni locali, e abbiamo anche visto, parlando una forma non eccezionale, ma non stavamo vedendo alcuni portali, per finanziare i temi locali, realizzando lo spanziamento per finanziare i comuni che intendono afforrare i piani di azione del risparmio energetico, che scombando, ha visto già partecipare a uno dei cagli, che sono stati diventati. Sotto il profilo, invece, dell'investimento di interventi diretti, beh, la vostra, diciamo, è un rischio dell'altezza circostanza per dire che la provincia di Napoli, fino al 2010, fino al 2010, era riuscita a realizzare cinque impianti fotovoltaici, con solo una domanda invece, in particolare cinque ore, in seguito di questi sommari, fino al 2011. Per ne solo 2011, già per poter utilizzare tre impianti, quindi sono diventati otto, e l'apprenditore dell'investimento di finalizzare ancora altri 15 impianti fotovoltaici. E come potete immaginare, forse è stata vedere un valore molto evidente, sul piano del risparmio energetico, sul piano dell'utilizzo di fondi rinnovabili, assumare un valore, come dire, educativo che da noi si potrebbe realizzare un'iniziativa Sì, è un'iniziativa molto importante, ricordo, sono passato l'anno scorso in campagna elettorale, vedi modo di rendermi conto dell'importanza dell'iniziativa, quindi immediatamente noi ci siamo insediati, soprattutto il vice sindaco, l'assessore Ambrinche Sodano, ha lavorato nella direzione affinché già da quest'anno venisse rafforzata questa iniziativa, perché la consideriamo molto importante, perché, a nostro avviso, combacia con quel progetto di città che noi non solo immaginiamo, ma che cerchiamo di realizzare alcune cose a breve, altre a medie, altre a lungo termine, perché attraverso l'energia rinnovabile, attraverso le politiche del ciclo, attraverso le politiche delle bici, dell'elettrico, delle infrastrutture non invasive sotto il profilo ambientale, si costruiscono città diverse, si fa impresa, si fa economia e si creano posto il lavoro. Quindi la sfida del 2020 non è come una data che chi lo sa che deve succedere di apocalittico, è invece una sfida di un sogno che si può realizzare, cioè che dai fiuti si può produrre energia pulita e denaro pulito e non eco-mafie, che attraverso le bike sharing e altre cose, le biciclette, si può dimostrare che a Napoli si può andare in bici e quindi che non è vero che a Napoli non si può andare in bici perché non riesco a capire, perché a Napoli non si possa andare in bici e non è vero che non si può andare in bici perché ci sono le colline. Le colline ci sono, ma ci sono anche 40-50 km che dovrebbero andare tranquillamente a piedi. Questo credendo al Presidente Morda e mi è sembrato subito entusiasta di realizzare con l'apertura di mostra d'oltre mare perennemente dalla città, una pista ciclabile interna alla mostra, in modo da poter percorrere non solo a piedi ma anche in bicicletta, così come il progetto di completare le infrastrutture e così l'energia solare. Da quest'anno, grazie al lavoro che stanno seguendo soprattutto gli assessori solari e donati, si sta cercando di realizzare in una serie di importanti di scuole della nostra città, impianti all'energia solare e anche qui con un fortissimo risparmio di denaro pubblico e tutti quanti sappiamo quanti soldi all'anno spendiamo per un riscaldamento assoluto. Sì, è un'iniziativa molto importante, ricordo che sono passato l'anno scorso in campagna elettorale, in modo di rendermi conto dell'importanza dell'iniziativa, quindi immediatamente noi ci siamo insediati, soprattutto il Vice Sindaco, l'assessore Ambrinche Sodano, ha lavorato nella direzione che già da quest'anno venisse rafforzata questa iniziativa. Perché la consideriamo importante? Perché a nostro avviso, combacia con quel progetto di città che noi non solo immaginiamo, ma che cerchiamo di realizzare alcune cose a breve, altre a medie, altre a lungo termine. Perché attraverso l'energia innovabile, attraverso le politiche del ciclo, attraverso le politiche delle bici, dell'elettrico, delle infrastrutture non invasive sotto il profilo ambientale, si costruiscono città diverse, si fa impresa, si fa economia e si creano posti di lavoro. Quindi la sfida nel 2020 non è come una data che chi lo sa che deve succedere di apocalittico, ma invece è una sfida di un sogno che si può realizzare. C'è che dai fiuti si può produrre energia pulita e denaro pulito e non ecomafie, che attraverso le bike sharing e altre cose, le biciclette, si può dimostrare che a Napoli si può andare in bici e quindi che non è vero che a Napoli non si può andare in bici perché non riesco a capire perché a Napoli non si possa andare in bici e non è vero che non si può andare in bici perché ci sono le colline. Le colline ci sono, ma ci sono anche 40-50 km che dovrebbero realizzare con l'apertura di mostra d'oltre mare perennemente alla città, una pista ciclabile interna alla mostra, in modo da poter percorrere non solo a piedi ma anche in bicicletta, così come il progetto di completare le infrastrutture e così l'energia solare. Da quest'anno, grazie al lavoro che stanno seguendo soprattutto gli assessori solari e donati, si sta cercando di realizzare in una serie di importanti di scuole della nostra città, impianti all'energia solare e anche qui con un fortissimo risparmio di denaro pubblico, perché tutti quanti sappiamo quanti soldi all'anno spendiamo per un riscaldamento assoluto all'interno degli diritti pubblici, delle scuole, dei tribunali. Fatevi a leggere il tribunale di Napoli, il palazzo di giustizia di Napoli, con gli spazi enormi ogni anno, quanto si spende il denaro pubblico con riscaldamenti di marzo. Io ricordo l'attività magistrale, qui c'è un progetto di città, di vivibilità diversa, su quale non solo scommettiamo ma ci impegniamo. Il modo migliore per realizzarlo è mettere insieme istituzioni, come è in questa iniziativa, e soprattutto il mondo delle imprese, dell'associazionismo e di tutti coloro che, come noi, credono che queste siano cose possibili e non solo oggetti di convegni e di ribattime, ma che i convegni e ribattimi servono per far proposte e la politica serve per realizzarli. Quindi mi auguro che molti cittadini napoletani parteciperanno, non solo napoletani, ma ovviamente campani, mi auguro anche fuori alla campagna in questi tre giorni di 22 e 24 marzo, in modo da aiutarci ancora di più come cittadinanza attiva per portare avanti questi progetti politici. Il nostro territorale è diverso, ma la nostra città è pronta a questo cambiamento, è pronta agli autobus elettrici, alle biciclette, a una mobilità sostenibile, perché questo significa meno inquinamento, significa più di mobilità, abbiamo meno malattie cardiorespiratorie, bisogna portare più puliti e anche posti di lavoro, perché appunto in questo modo lo dimostra è un'interia di energimetria, si creano posti solare, anche posti di lavoro importanti, così come nelle coppie verde, nelle città, nelle città, nelle città in materia di rifiuto. Quindi è una grande scommessa che mette insieme il mondo delle imprese, il mondo del lavoro e le istituzioni più sensibili per me. Quindi è un'occhio culturale diverso. La nostra città è pronta a questo cambiamento, è pronta agli autobus elettrici, alle biciclette, a una mobilità sostenibile, perché questo significa meno inquinamento, significa più di mobilità, significa meno malattie cardiorespiratorie, meglio portare più puliti e anche posti di lavoro, perché appunto in questo modo lo dimostra questa inizia di energimetria, si creano posti solare, anche posti di lavoro importanti, così come nelle coppie verde, nelle città, nelle città in materia di rifiuto. Quindi è una grande scommessa che mette insieme il mondo delle imprese, il mondo del lavoro e le istituzioni più sensibili per me.